Svelto, dobbiamo uscire di qui subito. Posizionare posizioni difensive da Alfa a Sierra, rilevanti mezzi da bordaggio nemici in avvicinamento, pronti a respingere tutti i lupi. Slocate con le porte blindate, svelti, svelti! Stai dietro! Signore, il capitano la vuole in plancia al più presto! Ti seguo, prego! Capitano Keyes Non la tengo mai carica, dovrai trovarti le munizioni da solo. Tieni giù la testa, ora siamo in due qui dentro. Sfio! Sfio! Fuoco di commettura! Fuoco! Fuoco! Quadra di combattimento, fonti 7 e 8, ritirarsi in seconda posizione difensiva. Morirete tutti! Quei Marines hanno bisogno di aiuto, capo, fai del tuo meglio. Vedete il grilletto? Mi dispiace! Dove spari? Colpa mia? Carica! E' tutta per te! Aaaaah! Nascin altro vuole un assaggio? Succhi! No! Sono stato colpito! Mi accetta, soldato. Morirete tutti. Alla camera d'equilibrio. Stanno usando le camere d'equilibrio delle nostre scialuppe per entrare. Noi usciamo e loro entra. Corri in questa stanza. Corri in questa stanza. Corri in questa stanza. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Grazie a tutti